ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato a maurice lacroix pontos s diver che però la particolarità di essere una limited edition in bronzo quindi è uscita all'inizio di quest'anno e va a diversificare il catalogo dei pontos s diver proprio per questa particolarità del materiale della cassa infatti se voi volete poi ci sono anche gli altri modelli in acciaio un pvd nero che costano anche qualche centone in meno rispetto a questo ma io ho voluto portare la versione in bronzo perché è veramente accattivante cioè ce l'aveva l'amico giacomo a disposizione e me l'ha prestato amico giacomo sarebbe il titolare della gioielleria pasquale domenici di viareggio che parte l'ufficiale del canale è concessionaria del marchio e quindi vi mette a disposizione gli orologi e vi offre anche un trattamento di favore mettiamola così andate fateci un salto a nome mio e vedrete che il trattamento è con i guanti bianchi come si suol dire pontos s diver è uscito nel 2013 questo modello questa famiglia e per un bel periodo è stata in cima alle vendite all'inizio delle vendite in testa le vendite diciamo così poi è stata è stata messa in secondo piano dall'enorme successo che ha avuto l'aicon in tutte le sue versioni per per qualche anno l'aicon è stato il best seller di casa maurice lacroix e ha messo in ombra qualsiasi altro modello potesse mai essere a catalogo e erano stati anche dismessi i pontos poi l'anno scorso sono stati ritirati fuori nuove versioni la cassa leggermente più piccola perché all'inizio del 2013 era già oltre 43 era un po differente ora gli hanno erano resi un pochino più indossabile avevano anche la valvola dell'elio quelle del 2013 figurate vi erano proprio veramente dei tool watch in tutto e per tutto adesso li hanno un po rimpiccioliti anche se di poco da tario ad ore 6 via la valvola dell'elio più indossabili dalla gente comune come noi che ci fa l'aperitivo con il diver no per assurdo a me è piaciuto molto subito da quando l'ho maneggiato le prime volte in qualche video così velocemente sia per l'abbinamento cassa bronzo e colore centurino per la qualità del centurino per la qualità dell'orologio quindi ho deciso di portarlo sul canale anche se è già passato un po di tempo della sua uscita non tanto perché è uscito iniziano questa versione qua che è in 888 esemplari ve lo dico che a ritondo così non si sfugge detto questo vi mostro l'orologio del giorno che questo simpatico long jean vintage del 1970 con il calibro 285 la sua cassa da 35 mm a cuscino simpatica fa parte la mia collezioncina umile collezioncina di long jean vintage che va dagli anni 50 agli anni 80 per ora no poi piano piano l'allarghiamo la facciamo crescere nel frattempo compriamo i ritagli di giornale delle pubblicità delle long jean vintage così con poca spesa tanta risa si inizia anche a fare una collezione di ritagli di giornale che tanto ci garba poi specie quando poi trovi la pubblicità dell'orologio che è anche te ma quello fa il match e si vince va bene ma adesso basta con i discorsi inutili giriamo la camera e diamo uno sguardone a questo bellissimo diver s il pontos il pontos a dopo per insomma per i commenti finali come al solito iniziamo baldanzosi cercando di delineare le proporzioni del pontos s diametro cassa 41.8 mm spessore 13.4 ingombro trasversale al polso 50.1 intera seansa da 22 mm un orologio che non mira assolutamente a voler rimanere entro i limiti dell'imperante moda del downsize e che piuttosto reclama a gran voce il fatto di essere ben evidente al polso diametro di 42 mm nominali lag to lag piuttosto consistente e passo cinturino da 22 tutti elementi che sono palesemente proporzionati tra loro e che lo definiscono come orologio contemporaneo da immersione quasi un tool watch dico quasi semplicemente perché non va di inserirsi tra gli orologi spigolosi di accezione moderna in quanto strizza l'occhio al passato e alle casse super compressor tipiche degli anni 60 una tecnologia ormai superata dalle contemporanee soluzioni tecniche e della quale rimane iconicamente a memoria la doppia corona sul lato destro e quindi questo il leitmotiv del design generale il classico diver con ghiera interna girevole comandata dalla seconda corona ad ore 2 nello specifico siamo poi di fronte ad una cassa realizzata completamente in bronzo materiale che ormai da qualche anno è utilizzato praticamente da tutte le case e che porta con sé la particolarità del viraggio ossia quella patina scura che si forma col tempo e che è frutto dell'ossidazione superficiale una abbronzatura consentitemi il termine che è unica per ogni orologio in quanto è fortemente correlata al ph della pelle all'ambiente nel quale lo si utilizza e dal tempo più o meno lungo passato al polso insomma una particolarità che rende quasi vivo l'orologio anche se non tutti l'apprezzano a livello di architettura generale possiamo invece notare come si tratti di un orologio con lunetta semplice posizionata sul corpo cassa corpo cassa che lateralmente ci appare alquanto monolitico e schematizzato semplicemente fa eccezione il profilo ansa che risulta ricurvo verso il basso tramite una segmentazione ben netta che ne riduce la sensazione di ingombro insomma le ansie sono sì lunghe ma nella parte terminale sono così rastremate da non sembrare poi così massicce discorso a parte invece per le due corone solitamente siamo abituati a vederle posizionate simmetricamente ad ore 2 ed ore 4 ed identica sagomatura qui si è scelto di avere la classica corona ad ore 3 ed una completamente differente ad ore 2 la sensazione visiva restituita e quindi quella dei classici cronografi mono pulsante sia per il posizionamento che per l'aspetto a fungo direi che è una soluzione apprezzabile che trovo indovinata tra l'altro la manovrabilità è una delle migliori mai provate superiore al mio long jean legend diver e al calamai mc 72 che però diver non è apprezzo anche quella curiosa fascetta nera che la circonda non è una guarnizione e non è funzionale a qualsivoglia operazione sta semplicemente a evidenziare che quella corona è deputata alla rotazione della ghiera dimenticavo sono entrambe a vite l'impermeabilità dichiarata è infatti di ben 30 atmosfere e la necessità di una tenuta stagna elevata prevede questa soluzione soluzione che non è invece stata adottata dal fondello sottostante come spesso accade negli orologi di maurice lacroix lo ritroviamo fissato con sei viti simmetricamente posizionate soluzione che abbiamo ormai compreso essere altrettanto performante rispetto all'avvitamento integrale questo ci fa pensare quanto possa essere obsoleto il concetto alla base della tecnologia super compressor degli anni 60 sono poi lieto di constatare che non si tratta di un fondello trasparente ma bensì realizzato in solido acciaio per chi non lo sapesse è bene non utilizzare il bronzo per i fondelli a contatto con il polso il contatto con la pelle velocizza la reazione del bronzo stesso lasciando spiacevoli macchie ma questo varia da persona a persona per quanto riguarda la decorazione troviamo un semplice logo e una fita trama realizzata al laser nulla di così eclatante ed apprezzabile resta il fatto che occlude senza alcun rimpianto la visuale al motore che anima l'orologio ossia un semplice sellite sv200 movimento arcinoto che motorizza la maggior parte della gamma base di maurice lacroix e che non andrò ad approfondire ulteriormente vi invito ad informarvi in autonomia o prendere visione dei miei precedenti contenuti come al solito passiamo poi al lato a dell'orologio a quel quadrante goffrato che cattura subito la tensione grazie alla granulosità della sua superficie ma non è quella la più importante caratteristica propedeutica alla leggibilità bensì il fatto che sia finitura opaca l'intero quadrante infatti assorbe la luce senza riflettere alcunché e questo diventa di vitale importanza laddove gli accenti scintillano ben visibili ed ottimamente leggibili questo perché per riprendere il colore della cassa le cornici metalliche degli accenti sono pigmentate in pvd color bronzo un match color alquanto accattivante che riesce a dare un tono di uniformità a tutto il quadrante chiaramente si tratta di indici applicati in un secondo momento e la loro profondità fa da introduzione a quell'elemento fondamentale per la tridimensionalità dell'intero quadrante la bag girevole posizionata a filo vetro ruota su un piano considerevolmente più elevato rispetto al quadrante lo scalino è ben percepibile ad occhio nudo e ciò che ne guadagna è la profondità generale dell'insieme un altro punto fortemente caratterizzante è dato dagli indici dei secondi stampati la loro lunghezza è pari a quella degli indici metallici e ciò che si ottiene è una fitta fila di stanghette che va a riempire la circonferenza interna del quadrante stesso una reminescenza retro che ottiene l'effetto voluto grazie anche al posizionamento della finestra data posizionata ad ore 6 non va ad inficiare l'equilibrio visivo tra lato destro e lato sinistro consentendo agli indici stessi di apparirci come onnipresenti anche se così non è chiaramente l'insieme di tutti gli accenti del quadrante deve poi dimostrarci che a buio sa svolgere il proprio compito ed ecco che in assenza di luce si rasenta quasi la perfezione tutto ciò che deve essere leggibile lo è compresi gli indici e i numeri sulla ghiera interna nulla da eccepire quasi sorprendente è poi il cinturino in dotazione lo avevo capito anche maneggiandolo distrattamente il negozio ma la possibilità di scrutarlo nei minimi particolari mi ha tolto ogni dubbio intanto direi che la tonalità è perfettamente in linea con il bronzo della cassa un color caffè nabuccato con doppie impunture color panna al tatto e quindi vellutato e morbido nonostante lo spessore sia ben al di sopra della media massiccio quasi squadrato con l'ottima scelta dei fori ardiglione rettangolari lo apprezzo molto anche perché la fibbia di dimensioni generose è anch'essa in bronzo e andrà di invecchiare di pari passo con la cassa unico punto dolente è che da nuovo tende a tenere sollevata la testa dell'orologio infatti è sì morbido ma anche leggermente elastico la speranza è che con il tempo si adatti alla conformazione del polso e torni ad appiattirsi su di esso possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali mi sono dimenticato di dire o meglio l'ho scritto però che l'orologio il cinturino ha le spring bar a sgancio rapido quindi si può anche giocare su quello se mai non si dovesse ammorbidire questo minchione di cinturino no nel senso che io se fosse mio lo stroppicerei anzi ci farei il bagno al mare per dieci volte voglio vedere se si ammorbidisce si ammorbidisce sicuramente però in caso contrario si può giocare coi cinturini c'è lo sgancio rapido glielo stacchi ci metti un cinturino magari artigianale insomma degno del livello dell'orologio che è oppure uno di quelli buoni gli hirsch mi viene in mente ma c'è nessuno di costosi e buoni e glielo cambi gliene metti uno che fa un pochino più presa sul polso per il resto l'orologio qui ce l'abbiamo qui eccolo qua e punti deboli oltre a quello lì non so il calibro se lì sv200 ma vogliamo chiamare punto debole è il calibro base di tutti i maurizio lacroix che è in grado di fare anche calibri realizzati in house con architettura proprietaria ma sui modelli così da vendere a catalogo diciamo come entry price usa i sellita sv200 in quasi tutti gli orologi questo qua ripeto mi piace soprattutto per il fatto della corona che muove la bag interna ad ore 2 e l'altra ad ore 3 che mi fa un po l'effetto cronografo monopulsante questo ci piace molto la legibilità è ottima e il fatto del pvd degli indici in pvd color bronzo è bello mi piace perché fa il pandan con la casa in bronzo e lo rende anche un pochino di pregio così come la m di moris e la crua in rilievo lo stesso in pvd color bronzo è bello la legibilità è gigantesca al buio poi la luminescenza mi ha sorpreso perché anche passando da una zona di luce ad una in ombra si attiva subito e non è da tutti avere anche i numerini e gli indici sulla ghiera che sono illuminati al buio praticamente è perfetto in qualsiasi situazione le dimensioni ma io ho visto che al polso non mi sta per niente male pur essendo un 42 nominale 41.8 cioè quando quando l'ho indossato per fare le riprese mi sta bene non sembrava nemmeno così così grande eppure il lag to lag è 50 e il lag to lag è 50 che incomincia essere una cifra ingombrante in realtà le leance vanno subito giù verso il basso tagliate squadrate così e alla fine sono sottilissime che non si sentono nemmeno fondello poi vabbè questa decorazione qua lascia il tempo che trova siamo sempre per i fondelli chiusi anche in questo caso viva il fondello chiuso però magari con una una rappresentazione grafica un pochino più di pregio ma va bene così anche perché piatto così come piatto il vetro e lo rende un orologio di profilo veramente lineare anche se insomma tutto tutto lo spessore va a finire sulla carrour laterale e si vede che è alto è però è un orologio 300 metri quindi questo è quanto poi basta il resto l'avete visto nelle immagini simpaticamente promosso dai non è che si può bocciare un orologio così mi piace io di orologi con due corone no che derivano da quando uno spesso quando l'appassionato vede due corone dice eccolo lì è super compresso perché gli è rimasto nella chiorbetta che quando un orologio ha due corone è super compresso che era quella tecnologia utilizzata negli anni 60 per aumentare l'impermeabilità cosa succedeva che sia il vetro che il fondello erano praticamente elastici mettiamola così prendetela per buona alla grande ve lo dico quindi all'aumentare della pressione dell'acqua aumentava la pressione su il vetro sul fondello andando a rendere ancora più ermetico l'orologio stesso poi aveva anche un limite però si è arrivati a quelle a quella resistenza lì a quell'impermeabilità a quelle ermeticità utilizzando semplicemente dei fondelli a vite o dei fondelli avvitati o delle guarnizioni migliori per cui essendo complicato quel sistema è meno e più costoso è diventato obsoleto si riesce a fare con semplicità con meno costo ottenere un'impermeabilità maggiore rispetto al super compresso quindi è andato in disuso oggi certe case riutilizzano la cassa super compressor per sfizio per riportare a galla quella tecnologia ma non è che sia migliore di quelle di oggi è come dire che voglio fare una macchina a carburatori per avere il piacere di avere le macchine come le facevano una volta ma non è che siano migliori di quelle di oggi a livello di inquinamento a livello di risposta a livello di potenza raggiunta non c'è poco da dire quindi quando uno vede le due corone pensa super compresso quando non è così anche il mio mc 72 caramai a due corone e non è neppure un diver eppure ci nei commenti ci furono anche qualcuno che però un super compressor 50 metri ma scappellotto qua nella fiorbetta stai zitto in orologio per l'aviazione con la ghiera interna per prendere i tempi di navigazione aerea e quindi cosa vuol dire il super compresso sono le bagianate che a volte si propagano nel tempo e nell'aere come diceva il buon rocco si freddi detto questo io gli ingredienti ve li ho messi lì le foto ve lo fate vedere le macro ve lo fate vedere voi siete capaci di intendere di volere non tutti però per la maggior parte siete così capaci di intendere di volere quindi saprete discernere il bello dal brutto quello che fa per voi insomma io la mollo qui perché mi sembra anche di aver detto tutto devo andare a vedere gattini su instagram che mi aspettano miau miau e quindi io vado vi ringrazio per aver visto il video fino a qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love musica 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 musica